Musica Si stringe il cerchio intorno all'assassino che ieri mattina ha barbaramente freddato a colpi di arma da fuoco presumibilmente una pistola a tamburo calibro 7,65 il detenuto in regime di semilibertà Fabio Fresenda di 33 anni nelle campagne alla periferia di Copertino. Le indagini svolte dai carabinieri coordinati dalla direzione distrettuale antimafia si sarebbero infatti concentrate sulle presunte responsabilità non ancora accertate di un altro pregiudicato che avrebbe regolato vecchi conti. Per l'identificazione i carabinieri e gli inquirenti stanno esaminando in particolare alcune testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza dei due capannoni attigui all'officina di infissi in alluminio dove la vittima lavorava avendo ottenuto il permesso di lasciare temporaneamente gli arresti domiciliari. Intanto questo pomeriggio il medico legale Armene Gildo Colosimo dovrebbe effettuare l'autopsia sul corpo del cadavere probabilmente ucciso da un proiettile che lo ha colpito dietro la schiena trapassandogli il cuore e uscendo dal petto. Oltre al foro del proiettile il medico dovrà fare chiarezza sui graffi e i lividi al braccio destro di Frisenda che lasciano pensare ad una colluttazione fra la vittima e l'aggressore prima dello sparo. Arrivano i soldi per l'edilizia scolastica della Puglia. Ieri il governo ha firmato il decreto per la costruzione e per la ristrutturazione di edifici destinati alla scuola cioè per quella che Matteo Renzi ha indicato fra le sue priorità. Alla provincia di Lecce sono stati destinati circa 40 milioni e mezzo di euro distribuiti secondo la ripartizione decisa dal governo. Circa 30 milioni di euro saranno spesi per rendere le scuole più belle, quasi 10 più sicure e la restante parte del finanziamento servirà per nuovi edifici scolastici. Risorse in parte liberate dai vincoli del patto di stabilità dei comuni e in parte provenienti dal fondo di sviluppo e coesione. In provincia di Lecce, per citare maggiori interventi, saranno destinati quasi 5 milioni di euro al capoluogo, quasi 2 milioni a Casarano, 1 milione e 700 mila euro a Maglie, 1 milione e mezzo a Galatina, 1 milione a Copertino e un altro a Gallipoli. Entro il 30 ottobre province e comuni dovranno aggiudicare gli appalti. Perplessità sono state sollevate dall'Associazione Nazionale Costruttori ed Ili di Lecce, il cui presidente Giampiero Rizzo ha sollecitato più chiarezza circa le gare d'appalto. Dal 1 luglio, infatti, i comuni, non capoluogo, devono acquisire lavori, beni e servizi attraverso consorsi di amministrazioni cittadine e le stazioni uniche appaltanti. Ma le unioni dei comuni ancora non possono aggiudicare lavori, quindi secondo Rizzo occorre una deroga da parte del governo per evitare che le risorse siano perdute. L'università in questo periodo sembra essere sottotiro per scarsa efficienza e quanto lamenta la conferenza dei rettori delle università italiane che ha cercato di ristabilire la situazione reale con una lettera al ministro della pubblica istruzione Stefania Giannini. A sostegno di questa iniziativa, il rettore dell'Università del Salento, Vincenzo Zara, chiama a raccolta le forze vive del territorio cominciando dalla deputazione parlamentare. Zara, partendo dagli attacchi rivolti all'università pubblica, si chiede cosa diventerebbe il Salento senza l'università che di fatto rappresenta un volano di sviluppo economico e sociale. Da qui la necessità, nonostante il periodo estivo che di certo non sollecita la riflessione, di tenere alta la guardia, che per Zara significa l'impegno dei parlamentari a scongiurare ulteriori tagli ad un sistema, quello universitario, già ridotto alla sopravvivenza. La situazione nelle carceri pugliesi diventa sempre più preoccupante. Lo sostiene il coordinamento sindacale penitenziario guidato da Mimmo Mastrulli, ricordando quanto è successo a Lecce nei giorni scorsi. Un detenuto originario di Castro è andato in escandescenze, ha rotto il tavolo della propria cella e brandendo nei piedi ha dato colpi da orbo a tutti, compresi colleghi. Gli agenti della Polizia Penitenziaria in un primo momento sono riusciti a calmare il detenuto, che dopo un po' però ha ripreso ad inveire, procurando lievi lesioni alla mano di un agente. A Foggia invece un detenuto si è autolesionato, ferendosi al collo con una lametta da barba, mentre a Bari un detenuto tunisino ha appiccato il fuoco al proprio materasso. A fronte di questa difficile situazione, sei agenti penitenziari vengono utilizzati per la scorta a civili sotto tutela. Una decisione che Mastrulli definisce sbagliata, considerando che in questo periodo di AFA, di mancanza d'acqua, di aria irrespirabile per il sudore dei detenuti, la situazione nelle celle è sempre più preoccupante. Anche gli ausiliari del traffico hanno un cuore. Potrebbe intitolarsi così la notizia diffusa da Cesare Mazzotta, presidente del Comitato di tutela della salute, riguardante una iniziativa benefica che ha per protagonisti proprio gli ausiliari del traffico di Lecce. L'ANAT, l'associazione di categoria, ha versato un assegno di 1.300 euro in favore di un'associazione che assiste i bambini oncologici, con la specifica destinazione in favore di un bambino di racale affetto da gravi problemi di salute. Il presidente dell'ANAT, Antonio Capoccia, spiega che a questa decisione si è giunti nel momento in cui si è deciso di chiudere l'attività del sodalizio perché non erano stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Nel frattempo però i 40 soci avevano versato regolarmente le quote di iscrizione e in cassa giacevano ancora 1.300 euro. Da qui la decisione di aiutare un bambino malato. Insomma, Antonio Capoccia spera che con questa iniziativa possa essere rivisto il giudizio negativo sulla categoria, il cui comportamento molti giudicano vessatorio. Buona cucina e solidarietà sono gli ingredienti della serata di beneficenza per la piccola Giorgia che si terrà domani sera nell'Art Hotel di Via Giorgio De Chirico a Lecce. Lo chef salentino Alessio Gubelli ha ideato una cena di altissimo livello e a base di quattro prelibate pietanze preparate da alcuni fra i migliori cuochi salentini ed italiani, fra cui spicca lo chef pluristellato Massimo Bottura. La vita della piccola Giorgia, affetta da una rarissima anomalia cellulare, la sindrome di Berdon è appesa ad un filo. Un multitrapianto in America è l'unica possibilità, ma è anche costosa e rischiosa. Per questo nei prossimi giorni partirà con un volo di Stato per Pittsburgh e Cleveland, ma prima sarà la protagonista domani sera di Stelle del Gusto per Giorgia, a partire dalle 20 e 30 e si divertirà a stare vicino ai Fornelli, in compagnia degli chef Massimo Bottura dall'Osteria Francescana di Modena, Giuseppe Di Iorio dal ristorante a Roma di Palazzo Manfredi nella capitale, Alessio Gubello, ideatore dell'iniziativa e chef dell'Art Hotel e Simone Desiato sempre da Modena. Chef, quale sarà il menù? Il menù è un menù soprattutto legato al territorio, quello che presenterò io è una evoluzione di una zuppa di polio, quindi un polio in pignata omaggiato all'Osteria Francescana, il ristorante dove adesso lavoro, che racconta un po' la tradizione del nostro posto, però l'evoluzione con delle nuove tecniche all'avanguardia, in modo da salvaguardare la nostra tradizione. Per sostenere la piccola durante la serata di domani ci saranno anche l'Associazione Italiana Sommelier di Lecce, la cantante Evie Arnesano e molte aziende del territorio come l'Art Hotel, Alea Olio Extravergine d'Oliva, Ristorazione Italia, Quartiglia, Pasta d'Elite, Cante Levini, Moda Lavoro, Maracca Fotografie, As Flower Design, Atmosfera Blu, Associazione App, Associazione Eventi Cult e il Raggio Verde Editoria e Comunicazione. Abbiamo conosciuto questa bambina in cui comunque parlandone con la madre, parlandone con la bambina, le piace molto 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 cucinare e da lì il suo sogno sarebbe stato anche passare una giornata con degli chef e comunque aver a che fare con una cucina professionale, da lì semplicemente pensando di farla entrare in cucina, facendoli conoscere magari delle persone del club di Massimo Bottura che è tra i migliori che c'è in Italia, si può dire comunque alla fine uno chef pluripremiato. Abbiamo iniziato a parlare di questa cena, a parlare di questo incontro con degli chef e da lì comunque abbiamo pensato perché non avere comunque alla fine raccogliere delle fondi per la bambina che purtroppo ha bisogno di un intervento veramente importante, molto molto costoso. Grazie.